Dunque tutto nelle prossime due sfide contro Trapani e Livorno. Girone di ritorno da brividi, trend da retrocessione diretta. Il Pescara infatti sarebbe terz'ultimo con 16 punti, uno in più del Perugia che ha esonerato Cerse Cosmi. Solo 15 punti in 16 incontri e richiamato Massimo Oddo. Ecco la classifica del girone di ritorno. Benevento 34, Crotone 31, Spezia 29, Pisa e Frosinone 26. Empoli e Salernitana 25, Cremonese e Cittadella 23. Trapani e Venezia 22, Chievo e Pordenone 21, Ascoli e Dentella 18, Cosenza e Juve Stabia 17, Pescara terz'ultimo con 16 punti, Perugia 15, Livorno 9. In generale il meglio con Zauri, 26 punti in 20 partite. Sotto la gestione le grottaglie 13 punti, 4 vittorie e un pareggio 7 KO in 12 gare. 3 invece i punti, 3 pareggi, conseguiti da Sottil in altrettanti incontri. Nel girone di ritorno dopo il KO con la Salernitana e le successive dimissioni di Zauri, 16 punti in 15 sfide. Il Trapani oggi è virtualmente spacciato, meno 6 dalla Juve Stabia, realtà 7 per lo scontro diretto a 3 gare dall'epilogo. Se invece consideriamo solo il girone di ritorno, sarebbe ampiamente salvo, avendo finora ottenuto ben 22 punti. Castori è subentrato a Baldini e alla vigilia di Pescara Trapani 1 a 1 dello scorso 22 dicembre. I siciliani erano ultimi in classifica, 11 punti insieme col Livorno. Il 66enne tecnico marchigiano ha conquistato 24 punti in 19 partite. Facendo una proiezione su 38 gare sarebbe stata salvezza certa. Venerdì prossimo alle 21 per i siciliani al provinciale sarà ultima spiaggia proprio contro i Biancazzurri.